Dopo il rinvio del mese di febbraio, venerdì 23 marzo, a Mondolfo, si è tenuta la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili nell'ambito dell'iniziativa Mi Illumino di Meno. I partecipanti hanno potuto usufruire delle navette partite da Mondolfo in piazzale Borroni per poi partecipare alla passeggiata dal mare al castello con partenza da piazza dell'unificazione a Marotta ed arrivo in piazza del comune a Mondolfo. Un appuntamento che è stato accolto favorevolmente dalla cittadinanza che ha partecipato numerosa. Stiamo per partire per la camminata di Mi Illumino di Meno un mese dopo perché il 23 febbraio che è la giornata di Mi Illumino di Meno con Radio 2 Caterpillar avevamo organizzato una passeggiata che va dal mare al castello e abbiamo organizzato con le associazioni Corchetta Riven e l'ASD Ginnastica Marotta un ritrovo e una passeggiata insieme che stanno a significare la possibilità di camminare e osservare lentamente il nostro paesaggio, il nostro territorio di notte quindi anche in una sorta di atmosfera magica. Siamo contenti che ci sono un sacco di persone, sono venuta anche da Mondolfo con le navette che abbiamo predisposto ed è una soddisfazione. Un mese dopo ma la facciamo lo stesso. È un tema molto importante quello dell'utilizzare altri metodi di spostamento al di là della macchina o dei mezzi insomma motorizzati proprio perché il nostro territorio è molto bello è molto piacevole da attraversare anche camminando e soprattutto le distanze non sono così grandi e qui stasera lo vedremo.